Ciao, io sono Fabio Marini e sono l'autore di questo libro, Lo Zero Conta, con i disegni di Emiliano Di Placido. È una storia in cui i personaggi sono numeri e il protagonista è il numero zero. Adesso, insieme a Cristina e Daniele, scopriremo un po' della loro storia. È una mattina di novembre, nel paese dei numeri relativi, detto anche Paese Z. Come ogni mattina, Otto si sveglia e va ad aprire le tende. Ma non c'è il sole. Mannaggia questa pioggia, mi rende triste. Cosa posso fare per rendere migliore questa giornata? Ma certo, ecco cosa posso fare. Chiamo subito meno Otto per propendolo. Bip, pip, 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 pip! Dring, dring! Pronto? Ciao, meno Otto, che fai? Ah, ciao Otto! Mi sono appena svegliato! Anch'io? Hai visto che brutto tempo che c'è fuori? Sì, ho visto! E mi rende così triste! Dai, non essere così negativo. Ti chiamavo proprio per proporti qualcosa di divertente. Vabbè? E cosa? Organizziamo una bella festa! Una festa? Una festa? Sì, qui a casa mia, con tante belle torte da mangiare, ma anche delle pizze, patatine e castagne allostite al cammino. E poi tanta bella musica da ballare, cantare. Che dici? Ti va? Non sembra una buona idea. E chi vorresti invitare? Beh, tutti i numeri, le quattro operazioni, ma senti... Cosa? Secondo te dovremmo invitare anche... zero? Perché? Non vorresti invitarlo? Non lo so. Tutti dicono che non vale nulla, che non conta niente. Nessuno vuole mai ballare con lui. È vero. Gli altri numeri negativi non vogliono avere a che fare con lui. Dicono che non è uno di noi. Anche gli altri numeri positivi lo dicono. Ma a me dispiace non invitarlo. Allora, invitalo. Non lo so. Magari prova a chiamare le quattro operazioni. Essendo cosa pensano loro. Mi sembra una buona idea. Otto non sa proprio cosa fare. E decide di chiamare Addizione. Proprio quella mattina, sottrazione, è andata a trovarla per fare colazione insieme. Ciao, cara! Tesoro, vuoi aggiungere un altro po' di zucchero al tuo tè? Oh no, grazie, cara! Un altro po' di burro sul tuo pane tostato, allora? Oh, bene così, tesoro. Grazie, grazie! Ring, 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 ring... Scusa, cara, che vado a rispondere al telefono, eh? Sì. Pronto? Oh, Otto! Ciao, caro! Ma certo che voglio venire alla tua festa, insieme a strutturazione. Certo! Cosa ne diresti se invitassi anche Zero? Zero? Sì, Zero! Ma fa come vuoi, guarda! A noi non importa tanto, eh! Davvero? E perché? Caro, perché per noi, se lui c'è o non c'è, non cambia nulla, guarda! Ciao, tesoro! Una volta finito con gli inviti, otto e meno otto iniziano i preparativi per la festa. Otto è molto soddisfatto. Abbiamo fatto proprio un bel lavoro, non vedo l'ora che arrivino gli invitati! E gli invitati cominciano ad arrivare.